I modelli imprenditoriali emergenti e le testimonianze di chi ha saputo contrastare la crisi con strumenti innovativi sono stati al centro del settimo Salone Nazionale Gamma Donna. L'iniziativa, con l'obiettivo di dare voce all'imprenditoria femminile e giovanile, si è svolta al campus Einaudi con la partecipazione della Consulta Giovani. Questa edizione del Salone Gamma Donna conclude un percorso di due anni che si è sviluppato in tutta Italia, dove abbiamo realizzato una sorta di laboratorio di ascolto per individuare dei modelli vincenti di imprenditoria giovanile e femminile. Sono emersi dei modelli, sono emerse delle criticità che abbiamo messo a confronto nel tentativo di fare sistema e di dare delle risposte concrete per chi ha intenzione di fare imprenditoria.